Sì, Presidente, io vorrei sottolineare ancora una volta l'importanza della dichiarazione scritta sulla corruzione che ho proposto insieme a altri quattro parlamentari e che la metà più uno del Parlamento europeo ha approvata, in modo da impegnare Consiglio e Commissione a una legislazione veramente efficace in tema di corruzione. Sono tornato per conto della Commissione Controllo sul bilancio da una visita in Grecia e sicuramente uno dei motivi della crisi strutturale greca dipende anche dallo sperpero del denaro pubblico. Una situazione che accade anche in Italia. L'Italia è corrosa dalla corruzione, come emerge in questi giorni. Corruzione che gira soprattutto attraverso la gestione illegale del denaro pubblico al rapporto tra una parte della politica e una parte degli imprenditori e la criminalità organizzata dei colletti bianchi. E' importante che il Parlamento europeo faccia sentire tutta la sua pressione sulla Commissione, sugli Stati membri, gli Stati membri che non si adeguano vengano sanzionati e che vengano rafforzate le istituzioni europee che devono controllare la corruzione e la lotta al crimine organizzato. Grazie.